In questo video vi mostrerò che non è necessario spendere soldi per scaricare programmi costosi, pesanti e difficili da usare per photoshopare una foto. Infatti basta utilizzare un semplicissimo programmino presente già in maniera standardizzata su tutti i computer, o almeno su Windows per quanto ne so, non per fare cattiva pubblicità alla Apple ma secondo me fa abbastanza cag-g-g-jag-roll. Per far sparire persone e secchielli basta fare copia e incolla dei piccoli pezzettini di foto che vi servono a camuflare questi poveri bagnanti manco fossero cecchini con un cespuglio in testa. Scegliete giustamente pezzettini con sfumature e distanze dello stesso tipo a quelle nei dintorni dell'oggetto da eliminare, commentate il video con. La foto è brutta e condividetelo ai vostri amici che usano photoshop invece di paint. Ridete dei vostri amici che hanno deciso di spendere soldi, denaro e finanze per utilizzare programmi avanzati e sofisticati che non servono a niente perché paint è il primo programma al mondo per modificare le foto in maniera perfetta ed avanzata lasciandole con una qualità talmente superiore che glia altri programmi sono soltanto una tarrocata, questo video non ha senso perciò guardatene. Un altro tra quelli che vi consiglio per riprendervi da questo terribile trauma disturbante. Ciao ragazzi e ragazze.